Tornano ad aumentare le vittime sul lavoro. Il 2018 si chiude con un bilancio nero che certifica un nuovo aumento delle denunce di infortuni presentate all'Inail, con i casi mortali saliti a 1133, il 10,1% in più rispetto al 2017, 104 in più rispetto ai 1029 casi denunciati l'anno prima, ma 39 in meno rispetto ai 1172 decessi del 2015, sottolinea lo sesto istituto, anno che insieme al 2018 appunto registra una inversione di tendenza rispetto al trend degli ultimi anni, che resta comunque decrescente. Resta il dramma delle vite perse. I sindacati tornano ad alzare la voce, chiedendo più prevenzione, più salute e sicurezza nei cantieri, nelle fabbriche, nei porti, nei campi per le strade. È inaccettabile, ripeto, non morire sul lavoro. I dati dicono più di tre morti al giorno. Nel complesso, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e dicembre 2018, fa sapere lo stesso istituto, sono state 641.261, di queste 1133 con esito mortale. Tra gli eventi di tragici dell'anno scorso, con più vittime, il crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 denunce di casi mortali sul lavoro e i due incidenti stradali avvenuti in Puglia, Alesina e Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti. Di nuovo, in aumento, anche le patologie di origine professionale denunciate.